L'arrivo di Valentino sull'isola di Man è stato un evento nell'evento ed è stato acclamatissimo dal grande pubblico di appassionati, tra i quali ci sono anche il campione del TT John McGuinness e il figlio Yuan. Valentino ha prima guardato le gare a bordo pista, poi ha fatto un giro del Mountain Circuit insieme a Giacomo Agostini, dieci volte vincitore al TT. Giacomo Agostini